Lo sfidante di oggi è un grandissimo protagonista del calcio italiano, circa 200 gol in carriera e poi un grande successo come allenatore all'estero. Molattene! Grazie veramente per avermi invitato, per avermi aperto le porte di casa tua. Ti avrei portato un regalino, una cosa che tu non hai ancora. La puoi apprendere in camera da retto, una Champions League. La Coppa del Mondo è anche bella. La Coppa del Mondo. Attacco e contrattacco tra Pepe e Vialli. Non l'ho visto in formissima, Pepe. Riuscirà a farcela anche questa volta? Lo scopriamo subito, Furio, perché la partita comincia in questo momento.